Il nemico sta attaccando il treno corazzato! Il nemico sta prendendo il treno! Stiamo rallentando! Stiamo perdendo velocità! Ci stiamo fermando! Sta rallentando! Stiamo accelerando! Stiamo acquistando velocità! Stiamo prendendo velocità! Ci stiamo muovendo! Il nemico non è riuscito a distruggere tutti gli obiettivi! Abbiamo vinto! Abbiamo distrutto tutti gli obiettivi nemici! La vittoria è nostra! Abbiamo preso il controllo del territorio! Vittoria! Abbiamo fermato il treno corazzato! La vittoria è nostra! Il nostro treno ha sfondato le difese! Abbiamo vinto! Abbiamo sfondato le difese del nemico! Abbiamo vinto! Le nostre difese hanno resistito all'attacco! Abbiamo vinto! Abbiamo distrutto ogni obiettivo nel settore! Andiamo avanti! Tutti gli obiettivi del settore sono stati distrutti! Continuiamo l'attacco! Abbiamo fatto saltare tutti gli obiettivi! Proseguiamo! Abbiamo fatto saltare tutto in questo settore! Continuate ad avanzare! Il nemico ha distrutto ogni obiettivo nel settore! Ritirata! Il nemico ha fatto saltare gli obiettivi del settore! Ritirata! Tutti gli obiettivi del settore sono stati distrutti! Dobbiamo ritirarci! I nostri obiettivi sono stati fatti saltare! Ritirata! Abbiamo conquistato tutti i punti di controllo! Restatene in possesso! Abbiamo occupato tutti i punti di controllo! Avanti così! Il nemico ha conquistato tutti i punti di controllo! Attaccate! Il nemico ha il possesso di tutti i punti di controllo! Dobbiamo riprenderceli! Siamo quasi all'obiettivo! Avanti tutta! L'obiettivo è vicinissimo! Un ultimo sforzo! Il treno è quasi passato! Fermatelo! Il treno corazzato ha quasi raggiunto l'obiettivo! Non fatelo passare! Il nemico ha distrutto ogni obiettivo! Abbiamo perso questa battaglia! Non siamo riusciti a distruggere tutti gli obiettivi! Abbiamo perso! La vittoria non è nostra! Abbiamo perso la battaglia! Il treno nemico ha sfondato le nostre difese! Abbiamo perso! Il treno corazzato non ha raggiunto l'obiettivo! Abbiamo perso questa battaglia! Abbiamo subito troppe perdite! Abbiamo perso questa battaglia! Le nostre difese hanno fallito! Abbiamo perso questa battaglia! Gli alleati hanno disinnescato la bomba! Esplosivi nemici eliminati! Abbiamo disinnescato l'obiettivo! La carica nemica è stata disinnescata! Il nemico ha impedito l'esplosione! Il nemico ha eliminato gli esplosivi! Il nemico ha disinnescato la carica! Il nemico ha sminato l'obiettivo! Gli alleati stanno disinnescando la bomba! Abbiamo iniziato a sminare l'obiettivo! Le nostre truppe stanno disinnescando la carica! Gli alleati stanno disattivando la carica! Il nemico sta cercando di impedire l'esplosione! Il nemico sta cercando di disinnescare la carica! Il nemico sta sminando l'obiettivo! Stanno disinnescando la nostra carica! Gli esplosivi sono stati piazzati! Non lasciate che li disinneschino! Gli alleati hanno piazzato la carica! Impedite al nemico di raggiungerla! L'obiettivo è stato minato! Non fate avvicinare il nemico! I nostri alleati stanno preparando un'esplosione! Difendete la bomba! Il nemico ha piazzato gli esplosivi! Disinnescateli! Il nemico si sta preparando alla detonazione! Disinnescate la bomba! Hanno minato il nostro obiettivo! Disinnescate la carica! Il nemico ha piazzato gli esplosivi! Disinnescate l'obiettivo! Gli alleati stanno piazzando degli esplosivi! Gli alleati stanno minando l'obiettivo! Le nostre truppe stanno piazzando la carica! Stiamo piazzando la bomba! Il nemico sta piazzando degli esplosivi! Stanno minando il nostro obiettivo! Il nemico sta piazzando gli esplosivi! Il nemico sta piazzando la carica! Abbiamo perso metà dei nostri rinforzi! Preparatevi! Abbiamo perso metà dei nostri soldati! Non demordete! Il nemico ha perso metà dei suoi rinforzi! Ben fatto ragazzi! Il nemico ha perso metà dei suoi rinforzi! Avanti così! Abbiamo già conquistato metà delle posizioni nemiche! Continuate l'assalto! Abbiamo conquistato metà dei punti di controllo! Ben fatto ragazzi! Abbiamo già preso metà dei punti di controllo! Continuate così! Abbiamo perso metà delle nostre posizioni! Coraggio uomini! Il nemico ha preso metà dei nostri punti di controllo! Non arrendetevi! Abbiamo già perso metà dei nostri punti di controllo! Radunatevi! Siamo già a metà strada! Mettetecela tutta! Siamo a metà! Altro carbone! Il nemico è a metà strada! Fermatelo! Il nemico è arrivato a metà strada! Dobbiamo fermarlo! Un ultimo obiettivo! Fatelo saltare! Un ultimo obiettivo! Distruggetelo! Resta un solo obiettivo! Difendetelo! Un ultimo obiettivo! Non permettetegli di farlo saltare! Rimane solo una posizione! Mantenete la concentrazione! Forza ragazzi! È rimasto solo un punto di controllo! Questo è il nostro ultimo punto di difesa! Resistete fino a quando! Non li avremo sconfitti tutti! Siamo bloccati! Mantenete il possesso dell'ultimo punto di controllo! Il nemico non può più scappare! All'attacco! Abbiamo quasi sfondato le loro difese! Questa è la nostra ultima posizione! Non possiamo più scappare! Le nostre difese non reggeranno ancora per molto! Torna sul campo di battaglia! Soldato! Soldato! Ritorna subito qui! Devi tornare in battaglia! Dobbiamo far saltare tutti gli obiettivi! Non siamo rimasti in molti! Piazzate le cariche sui punti di controllo! Siamo a corto di forze! Fate saltare tutti gli obiettivi! Abbiamo quasi finito i rinforzi! Dobbiamo distruggere tutti gli obiettivi! Stiamo subendo gravi perdite! Abbiamo quasi finito i rinforzi! Forza uomini! Stiamo perdendo! Coraggio uomini! Il nemico ha quasi vinto! Mantenete le linee o siamo spacciati! Dobbiamo prendere il punto di controllo a qualunque costo ma non siamo rimasti in molti! Dobbiamo attaccare le posizioni del nemico! Le nostre forze si stanno esaurendo! Conquistate i punti di controllo nemici! Non abbiamo quasi più rinforzi! Conquistate le posizioni del nemico! Stiamo subendo pesanti perdite! Ce l'abbiamo quasi fatta! Avanti così! Ce l'abbiamo quasi fatta! Il nemico è demoralizzato! Avanti così! Stanno per ritirarsi! Il nemico ha quasi finito i rinforzi! Mantenete le vostre posizioni a qualunque costo! Il nemico è debole! Abbiamo fatto saltare l'obiettivo nemico! Un obiettivo è andato! L'obiettivo è saltato in aria! Abbiamo distrutto l'obiettivo! Il nemico ha fatto saltare l'obiettivo! Abbiamo perso un obiettivo strategico! Il nostro obiettivo è stato distrutto! Il nemico ha fatto saltare il nostro obiettivo! Abbiamo conquistato alfa! Abbiamo preso il punto di controllo alfa! Il punto di controllo alfa è nostro! Il punto di controllo alfa è sotto il nostro dominio! Il nemico ha conquistato il punto di controllo alfa! Abbiamo perso il punto di controllo alfa! Il nemico ha preso possesso del punto di controllo alfa! Il punto di controllo alfa è in mano al nemico! Gli alleati sono al punto di controllo alfa! La nostra squadra è al punto di controllo alfa! Gli alleati stanno prendendo il punto di controllo alfa! I nostri uomini stanno conquistando alfa! Il nemico è al punto di controllo alfa! I nemici stanno attaccando il punto di controllo alfa! Il nemico sta conquistando il punto di controllo alfa! Il nemico sta prendendo il punto di controllo Alpha. Abbiamo conquistato Bravo. Abbiamo preso il punto di controllo Bravo. Il punto di controllo Bravo è nostro. Il punto di controllo Bravo è sotto il nostro dominio. Il nemico ha conquistato il punto di controllo Bravo. Abbiamo perso il punto di controllo Bravo. Il nemico ha preso possesso del punto di controllo Bravo. Il punto di controllo Bravo è in mano al nemico. Gli alleati sono al punto di controllo Bravo. La nostra squadra ha il punto di controllo Bravo. Gli alleati stanno prendendo il punto di controllo bravo. I nostri uomini stanno conquistando bravo. Il nemico è il punto di controllo bravo. I nemici stanno attaccando il punto di controllo bravo. Il nemico sta conquistando il punto di controllo bravo. Il nemico sta prendendo il punto di controllo bravo. Abbiamo conquistato Charlie. Abbiamo preso il punto di controllo Charlie. Il punto di controllo Charlie è nostro. Il punto di controllo Charlie è sotto il nostro dominio. Il nemico ha conquistato il punto di controllo Charlie. Abbiamo perso il punto di controllo Charlie. Il nemico ha preso possesso del punto di controllo Charlie, il punto di controllo Charlie è in mano al nemico, gli alleati sono al punto di controllo Charlie, la nostra squadra al punto di controllo Charlie, gli alleati stanno prendendo il punto di controllo Charlie, i nostri uomini stanno conquistando Charlie, il nemico al punto di controllo Charlie, i nemici stanno attaccando il punto di controllo Charlie, il nemico sta conquistando il punto di controllo Charlie, il nemico sta prendendo il punto di controllo Charlie, ce l'abbiamo fatta, ottimo lavoro, Avanti così, continuate a sferrare l'attacco Abbiamo preso questa posizione, andiamocene Il settore è nostro, avanti Abbiamo conquistato il punto di controllo Il punto di controllo è nostro Abbiamo il controllo del punto Abbiamo preso il punto di controllo Abbiamo conquistato la posizione Abbiamo conquistato il punto di controllo, passate al prossimo Il punto di controllo è nostro, passate al prossimo Eccellente, dirigetevi al punto di controllo Ben fatto uomini, attacchiamo la prossima posizione Il nemico ha conquistato la posizione Coraggio Il nemico ha preso il controllo della posizione Dannazione, abbiamo perso la posizione Il nemico ha conquistato il settore, ritirata Il punto di controllo è stato conquistato dal nemico Il nemico ha preso il punto di controllo Il nemico ha conquistato il punto di controllo Abbiamo perso il punto di controllo Il nemico ha conquistato la posizione Il nemico ci ha respinti Abbiamo perso il punto di controllo, ritirata Il nemico ha preso il punto di controllo Difendete il prossimo Il punto di controllo è caduto in mano al nemico, ritirata La nostra squadra ha iniziato a conquistare un punto di controllo. Le nostre forze stanno prendendo il punto di controllo. I nostri uomini stanno conquistando la posizione. I nostri ragazzi stanno conquistando la posizione. Le nostre forze sono in posizione. Il nemico sta cercando di conquistare il nostro punto di controllo. Il nemico sta cercando di prendere il punto di controllo. Il nemico sta prendendo il punto di controllo. Il nemico ha iniziato a conquistare il punto di controllo. Il nemico si sta precipitando verso il punto di controllo. State conquistando un punto di controllo. Stiamo conquistando una posizione. Stiamo andando alla conquista. Stiamo conquistando il punto di controllo. Stiamo fortificando la nostra posizione. Abbiamo conquistato Delta. Abbiamo preso il punto di controllo Delta. Il punto di controllo Delta è nostro. Il punto di controllo Delta è sotto il nostro dominio. Il nemico ha conquistato il punto di controllo Delta. Abbiamo perso il punto di controllo Delta. Il nemico ha preso possesso del punto di controllo Delta. Il punto di controllo Delta è in mano al nemico. Gli alleati sono al punto di controllo delta. La nostra squadra è al punto di controllo delta. Gli alleati stanno prendendo il punto di controllo delta. I nostri uomini stanno conquistando delta. Il nemico è al punto di controllo delta. I nemici stanno attaccando al punto di controllo delta. Il nemico sta conquistando il punto di controllo delta. Il nemico sta prendendo il punto di controllo delta. Abbiamo conquistato eco. Abbiamo preso il punto di controllo eco. Il punto di controllo eco è nostro. Il punto di controllo eco è sotto il nostro dominio. Il nemico ha conquistato il punto di controllo eco abbiamo perso il punto di controllo eco il nemico ha preso possesso del punto di controllo eco il punto di controllo eco in mano al nemico gli alleati sono al punto di controllo eco la nostra squadra è al punto di controllo eco gli alleati stanno prendendo il punto di controllo eco i nostri uomini stanno conquistando eco il nemico è al punto di controllo eco i nemici stanno attaccando il punto di controllo eco il nemico sta conquistando il punto di controllo eco il nemico sta prendendo il punto di controllo eco Soldati, dobbiamo conquistare tutte le posizioni, muovetevi Uomini, le nostre divisioni devono prendere tutti i punti di controllo nemici, iniziate l'assalto Uomini, la nostra missione è di impedire al nemico di conquistare i nostri punti di controllo, mantenete le linee Uomini, dobbiamo respingere tutti gli attacchi nemici contro le nostre linee di difesa, mantenete le vostre posizioni Soldati, dobbiamo distruggere tutti gli obiettivi del nemico, piazzate gli esplosivi Soldati, la nostra missione è far saltare ogni obiettivo strategico, piazzate le cariche Soldati, la nostra missione è impedire al nemico di distruggere i nostri obiettivi, difendeteli Soldati, non permettete al nemico di far saltare i nostri obiettivi strategici, mantenete le linee Uomini, la nostra missione è di conquistare e restare in possesso di punti di controllo strategici, muovetevi Uomini, dobbiamo prendere il controllo dei punti di controllo strategici, all'attacco Soldati, i nostri ordini sono di prendere i punti di controllo strategici, andiamo Soldati, dobbiamo scortare e difendere questo treno, mettetecela tutta Soldati, la nostra missione è scortare e difendere il treno, avanti Soldati, non lasciate che il treno sfondi le difese, fermate il nemico Soldati, dobbiamo fermare il treno colazzato, respingeteli Uomini, la nostra missione è quella di conquistare tutti i punti di controllo nemici, attaccate la prima posizione Soldati, i nostri ordini sono di occupare tutti i punti difensivi delle forze nemiche, muovetevi e attaccate la prima posizione Uomini, respingete l'attacco nemico, difendete il punto di controllo Soldati, non lasciate che il nemico sfondi le nostre difese, difendete il primo punto di controllo La nostra missione è di conquistare e restare in possesso dell'edificio Non lasciate che il nemico rafforzi la sua posizione nell'edificio La nostra missione è di conquistare e restare in possesso dell'arma Non lasciate che il nemico conquisti e resti in possesso dell'arma La nostra missione è di restare in possesso della nostra posizione Non lasciate che il nemico rafforzi la sua posizione Abbiamo preso il treno, il treno è nostro, abbiamo ripreso il treno Gli alleati hanno conquistato il treno. Il nemico ha ripreso il treno. Il treno è nelle mani del nemico. Il nemico ha conquistato il treno. Abbiamo perso il treno. Gli alleati sono sul treno. Stiamo conquistando il treno. Le nostre truppe stanno riprendendo il treno. Prendiamo il treno corazzato. Il nemico è sul treno. Il nemico sta conquistando il treno.